Buone cose formale a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla di calendari, perché sono usciti i calendari del campionato di serie A in questo preciso istante. Finalmente sappiamo quando incontreremo i nostri avversari. Prima giornata, Crotone-Milan. Allora, sarà una partita secondo me un po' particolare, perché il Crotone è una squadra che sta cambiando molto. Ha perso Falcinelli, che era il suo bomber, ha comprato Budimir al posto suo. Da vedere, insomma, secondo me è una squadra che ancora nel mercato deve fare tanto. Quindi è difficile esprimere un giudizio, ma in qualunque caso credo che sulla carta il Milan debba andare a Crotone con il chiaro intento di prendersi i tre punti. Anche in maniera abbastanza agevole. Seconda giornata, Milan-Cagliari. Anche qui stesso discorso, perché qui comunque è un discorso che puoi applicare secondo me a tutte le squadre che lottano per la salvezza. Queste squadre hanno l'abitudine, un po' come il nostro Condor, il Fu Condor, di fare il mercato durante le ultime giornate. Quindi c'è la possibilità, neanche tanto remota, che il Milan si ritrovi ad affrontare due squadre incomplete. O comunque con ancora dei pezzi da mettere nel puzzle. Quindi ragazzi, c'è poco da dire. Sono due squadre tra l'altro che si conoscono già, non sono delle neopromosse. Quindi non c'è il fattore to, una neopromossa che fa lo sgambetto. Il Milan deve uscire con, deve, proprio obbligato a uscire con sei punti da queste prime due gare. Non ce n'è. Già alla terza però cominciano i guai. Perché diciamo all'Olimpico contro la Lazio. Anche lì, la Lazio, anche essa, diciamo, è ancora un cantiere. Perché non si sa che fine farà Keita, non si sa come lo sostituiranno se dovesse andare via. E secondo me andrà via. Quindi insomma, è da vedere un po' anche lì. Alla settima, si va di rogne. Milan-Roma. Allora, nonostante la Roma l'anno scorso ci abbia dato qualcosa come 20-30 punti. Quindi quest'anno, a parer mio, Milan-Roma sono due dirette concorrenti per la qualificazione in Champions League. La Roma sta cambiando tantissimo, tantissimo. E rischia di perdere, dopo aver perso Salah e Paredes, rischia di perdere anche Manolas. Quindi, insomma, sarà una partita soprattutto in cui dovremo essere bravi a sfruttare il fattore casa. Si gioca a San Siro. Quella partita dobbiamo riuscire a vincerla. Poi, all'ottava, all'ottava, all'ottava ci aspetta purtroppo una sfida proibitiva. Perché comunque ci ritroveremo ad affrontare il derby di Milano. E insomma, dell'Inter che ha preso Nainggolan, dell'Inter che ha preso Vidal, che ha preso Di Maria, Pastore. Insomma, una squadra come la nostra, che non ha grandi disponibilità economiche per il mercato, che si ritrova ad affrontare una potenza del genere. Capisco che poi arriverà anche Messi a breve, oltretutto. Quindi, insomma, per me all'ottava sarà complicato. Molto complicato, prepariamoci veramente a prenderla in maniera amara. All'undicesima giornata, Milan-Juve. Tra l'altro che, cioè, è nello stesso periodo del Milan-Juve dell'anno scorso, quello di Locatelli. Cioè, più o meno, forse addirittura lo stesso giorno. Cioè, non vorrei dire minchiave, però, cioè, mi sa che siamo lì. Speriamo che anche stavolta vada bene, anche perché, secondo me, da quel periodo cominceranno un po' i problemi. Perché il Milan, col fatto che parte fin da subito sparato per l'Europa League, deve un po', diciamo, accelerare la preparazione. Non vorrei che, in quel periodo, i carichi di lavoro, diciamo, possano essere già bene evidenti sulle gambe dei nostri. Speriamo di no, però, Milan-Juve comunque la giocheremo a San Siro. Avremo il fattore campo dalla nostra. Perdonatemi. Quindi, ragazzi, c'è da sfruttare un calendario che, secondo me, è stato abbastanza benevolo. E, che dire, noi intanto ci dobbiamo concentrare però su domani, perché domani è la partita importante, domani è la partita fondamentale contro il Craiova. Formazione confermata, giocheranno gli undici che hanno battuto il Bayern Monaco. Non convocati Bacca, Paletta, Suso e Cialanoglu, tutti per motivi diversi. Bacca e Paletta sono essenzialmente in partenza. Cialanoglu e Suso non sono ancora in condizioni. Suso che, tra l'altro, ha anche cambiato il procuratore ed è passato a Lucci. Lo stesso di Bonucci e Montella. Quindi, mi sa che il rinnovo è nell'aria. E domani ci affideremo al buon Patrick Cutrone, che a quanto pare dovrebbe avere la meglio del ballottaggio con Andresilva. E completerà il suo tridente con Borini e Niang. Niang, che io ancora ho il terrore che possano pensare di tenerlo. Già leggo cose che non mi piacciono. E dire, noi ci risentiamo domani per la reaction alla partita. Mentre qua ancora continuano ad uscire partite. Siamo alla quattordicesima Milan Toro. Bella, mi piace. Contro Belotti, che ci ha rifiutato. Bene, cercheremo di farlo... Faremo in modo che se ne possa pentire amaramente. Te ne pentirai, Gallo. Poi Benevento-Milan. Mi piace Benevento-Milan. Anche lì, però... Più che altro è a dicembre. Benevento, sinceramente, è una squadra che... Si sta costruendo bene perché punta dei giocatori interessanti. Stanno prendendo Chisina, Cataldi, Belarogna. Milan-Bologna alla sedicesima. Mi sa che qua si va proprio fino alla fine. A questo punto proprio facciamo una diretta. Sta diventando bello il video. Cazzarola. Dai, su. Fammi uscire questa diciassettesima. È la Sverona-Milan. Alla diciassettesima. Quindi qua entriamo sul finire del campionato. Quindi è la Sverona-Milan. Il 17 dicembre, l'andata 6 maggio in ritorno. E adesso dovrebbero mancare i due turni finali che sono quelli natalizi. Ragazzi miei, sarà una stagione lunga. Abbastanza lunga, abbastanza rognosa. Ma noi finalmente possiamo tornare a fare la voce grossa. Abbiamo le possibilità, se remiamo tutti dalla stessa parte, se la squadra è coesa, possiamo fare grandi cose. Quindi, avanti così. Questo video finisce qui, ragazzi. Noi ci vediamo domani per la reaction. Spero di riuscire a caricarla domani stesso. Perché purtroppo per ora ho una connessione che va più lenta di Tiago Motte e Montolivo messi insieme. Spero, spero con tutto il cuore di riuscire a caricare la reaction già domani. In tal caso al massimo, dopo domani mattina, arriverà il video su Università di Criuva, Milan. Ci vediamo ad un prossimo video.